Lo sportello del cittadino è a Taranto in pieno centro, siamo in via Pupino, angolo via Pitagora e vogliamo farvi vedere come le aziende che effettuano i lavori, le ditte sul suolo pubblico per realizzare i vari servizi, penso alla fibra ma anche altri lavori di Enel, Gas o quant'altro poi praticamente sfreggiano il manto stradale, lo rappezzano con cemento e poi chissà se e chissà quando procedono con l'asfaltare la zona che è stata stuprata, passatemi questa espressione perché vedete qui che scempio, che schifezza questa ditta, non so se è stato realizzato questo intervento per la fibra, non lo so, ma sta di fatto che queste bestie, questa ditta bestiale, guardate un po' come ha gettato, bisogna usare questa espressione, il cemento perché non lo ha steso, ha preso del cemento e l'ha gettato così creando un avvallamento oserei dire un promontorio, guardate qui, guardate i miei piedi, pensate alle persone che attraversano la strada, che transitano e che rischiano di inciampare, anzi una persona che abita da queste parti un disabile con il suo ausilio più volte è caduto, l'ausilio si è ribaltato e il povero malcapitato, l'invalido, il diversamente abile è andato di faccia a terra perché guardate questi incivili, queste bestie che realizzano i lavori, lavorano appunto in questo modo davvero incredibile. Ma a questo punto è l'amministrazione comunale, non so bene il settore lavori pubblici o quant'altro, che devono intervenire drasticamente presso le ditte. A queste ditte bisogna spezzare le gambe e le mani, dico in senso metaforico, bisogna impedire di realizzare nel futuro, nel prosieguo altri lavori del genere, perché se tu ditta sei incapace, io amministrazione non ti consento più di sfregiare il manto stradale. Sono capitati anche casi in cui da poco era stata asfaltata l'area e subito dopo la ditta procedeva con i tagli. Vedete, qui sono passati alcuni mesi ma ancora l'intervento di asfalto non è avvenuto, anche perché poi quando si riasfalterà, immaginate un po' voi cosa accadrà, perché qui sopra verrà messo l'asfalto sul cemento e si creerà proprio un dosso, il dosso di questa ditta bestiale che ha realizzato i lavori. Ma l'amministrazione comunale, gli uffici tecnici si devono muovere, devono intervenire, devono chiamare la ditta e la ditta deve rifare lo scempio, deve riparare allo scempio. Oltretutto, quando si asfalta, penso per esempio a questa lingua, a questa striscia che è stata tagliata, non mi dovete soltanto asfaltare il pezzettino, la linguetta, ma mi dovete asfaltare un tratto abbastanza ampio, perché sennò avremo alla fine una città di rappezzi, di rattoppi, di linguette di asfalto che vengono messe l'una sull'altra e quindi chiaramente poi vedete i dossi e le cunette, ma neanche a farlo apposta, proprio questa mattina siamo venuti qui, evidentemente qualche macchina in retromarcia, qualche camion ha gettato a terra, ha distrutto a divelto questo archetto, quei famosi archetti che erano stati messi dall'amministrazione Stefano, per me inutili, ma comunque sia, in ogni caso, chiedo all'amministrazione comunale e ai lavori pubblici di intervenire subito, subito per richiamare questa ditta di incapaci e di bestie, perché così vanno definiti, che hanno realizzato questo scempio, queste ditte non devono più lavorare, non devono più mettere piedi a Taranto, andassero a sfregiare altre città e quindi l'amministrazione deve intervenire affinché la ditta compia ex novo, rifaccia i lavori secondo quelle che sono le cosiddette, quello che è il cosiddetto lavoro eseguito a regola d'arte. Grazie a tutti!